Io lavoro. Io lavoro. Tu lavori. Tu lavori. Egli lavora. Egli lavora. Sì. Verbo lavorare uguale al verbo amare? Certo. Io amo, tu ami e gli ama. Brava. Mi ho innamorato, si chiama Nicola. Posso scrivere su un foglio Nicola io lavoro e anche ti amo? Sì, è giusto. E posso scrivere anche Nicola tu me manchi? No, devi dire Nicola tu mi manchi. Sì, io devo andare, orario è finito. Signora ma aspetta. Va bene. Sì. Io posso rimanere di più? È meglio che andate via tutti, la lezione è finita. Settimana prossima viene Francesco. Grazie. 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 Ciao.